Bene amici questa è una bomba, la DJI Osmo Pocket 2, mamma mia quanto mi è piaciuta, già la 1 mi era piaciuta se nelle dimensioni rimangono praticamente uguali, nella sostanza c'è un abisso, veramente tanta tanta differenza sia nelle funzioni perché sono andate a implementare quelle cosettine che nella 1 mi mancavano tanto ma anche nella qualità prima su tutte finalmente l'obiettivo un po' più grandangolare che può essere reso ancora più grandangolare da questo che è un ulteriore obiettivo magnetico che si attacca così sulla lente e ampia ancora di più il campo ma già così viene ampliato però poi farò una comparativa, vi parlo subito di quello che c'è in dotazione, in confezione, il microfono wireless finalmente si integra, è vero che è disponibile solo nella combo o come accessorio a parte è vero che va a far diventare ancora più lungo il corpo della Pocket perché guardate si sfiorano quasi 20 cm sarà più o meno 15 cm ma rimane più comoda da maneggiare, comunque comoda da mettere in tasca io solitamente dove le metto le cam quando vado in giro qua così guardate rimane tranquillamente in tasca quindi rimane comunque molto portatile e si va a collegare al suo microfono dedicato wireless microfono che è praticamente come i rode questi qua che io utilizzo spesso che ha la possibilità o di avere un microfono su integrato oppure di collegare un microfono lavaglie quindi mettere questo in tasca e avere solamente il lavaglierino ha anche la clipettina per attaccarsela al bavaro della giacca e si accende semplicemente tirando su questa leva questo led vi dice quando è linkato alla pocket, alla camma ma non è tutto qua perché in confezione troviamo anche una base che va a essere alternativa questa si mette qua sotto e finalmente introduce la vite quindi l'attacco a vite cosa che non c'era nella 1 bisognava comprare degli accrocchi che poi si attaccavano qua e andavano a gestire il collegamento ad accessori standard da supporti standard esterni poi in confezione c'è anche un treppiedi vabbè questo abbastanza inutile si avvita qua sotto per tenerle in piedi ma devo dire che già la base piatta fa sì che lei rimanga in piedi da sola e anche questa è una grande comodità vi dicevo in dotazione cosa c'è il gatto per il microfono quindi anche quando c'è vento lo potrete utilizzare poi abbiamo i due connettorini e anche qua c'è una grandissima novità come la novità è anche il tasto accensione e spegnimento che qua non c'era lo trovo molto comodo perché davanti i tasti vengono dedicati ad altro ma il connettorino dove si attacca qua come la vecchia questo per collegarle ai telefoni che hanno una USB tipo C questa per collegarli ad iPhone ma vi assicuro che non lo userete mai questo Osmo attaccato a uno smartphone praticamente come funziona voi attaccate qua e attaccate qua e utilizzate il cellulare per vedere quello che riprende la cam ma a quel punto li usate direttamente la cam del cellulare ovvio magari avete un cellulare che è una cam che non è fantastica allora usate questo per però secondo me non è lo scopo io in ormai un anno e mezzo di utilizzo di questo Pocket 1 non l'ho mai usato attaccato allo smartphone sempre così a mano libra proprio per andare a sfruttare il vantaggio della dimensione ma veniva bomba questo è un altro aggeggetto fantastico perché se nella Osmo 1 penso sia compatibile anche con la 2 c'era la rotellina qua di fianco per andare a muoversi e andare a muovere il gimbal qua hanno integrato il joystick direttamente qua e guardate io posso ok vedete si è connesso muovere la testa che come vedete si sta spostando in questo momento sta andando verso l'alto in questo momento sta andando verso il basso la posso muovere a destra e a sinistra semplicemente muovendo questo joystick ed è una cosa super super comoda tra l'altro questo pulsante destra consente di cambiare le modalità dal follow quindi lui va a inseguire una direzione al tilt locket vuol dire che se anche fate così l'inquadratura rimarrà sempre orizzontale fino all'FPV che lui va a seguire quello che fate con la vostra mano ma ad ammortizzare i movimenti e questa è la modalità in cui io lo uso il più delle volte quando faccio i miei vlog mi sto veramente perdendo la cosa che non vi ho detto ovviamente rimane il touchscreen ovviamente rimane la possibilità di andare a rivedere tutte le immagini che c'è l'audio che non c'era sulla 1 da dove arriva l'audio esce dall'altoparlante che è messo qua sotto quindi l'audio lo sentirete solamente se agganciate questa protuberanza che è il ricevitore del microfono wireless ha qua anche l'uscita per le cuffie quindi si può ascoltare l'audio anche in cuffia adesso vi stacco quella vi attacco questa che poi questa forse è la configurazione più da vlog perché il microfono è sì importante ma solo se usate la camo un po' lontana oppure fate spesso riprese in cui vi avvicinate e vi allontanate perché l'altra grandissima novità anche qua a salto quantico è nell'audio qui abbiamo 4 microfoni uno per ogni lato questo vuol dire che se parlate così poi magari la girate a mano parlate così magari poi intervistate uno poi magari vi spostate l'audio viene preso da tutti e quattro i microfoni e c'è una modalità che va a seguire proprio la testa quindi se la testa di qua dà precedenza all'audio dietro se girate la testa andrà a dare la precedenza all'audio laterale 64 megapixel il sensore il che vuol dire fare anche foto a questa risoluzione ma soprattutto poter fare uno zoom che è ok digitale fino all'8x ma ho parlato troppo andiamo alla comparativa con la vecchia bene ma adesso una comparativa con il vecchio modello sto girando lentamente su me stesso perché cambiano le condizioni di luce per esempio qua il sole per questo sole che può essere a novembre è dietro di me quindi sono contro sole giro 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 qui sono a favore di sole vedete già la differenza della grande angolare sulla osmo 2 non ho messo l'adattatore proprio grande angolare mi sposto diciamo che l'inseguimento della cam adesso sono in fpv è più o meno lo stesso però devo dire che la stabilizzazione mi sembra un pelo meglio sulla nuova ma visto che sono qua in mano di l'audio 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 di l' adesso cerco con una mano di tenerle tutte e due e dare del filo torcere a queste due osmettine prima però aspettate voglio provare a metterla grandangolare sulla 2 comodissimo il fatto che tac sia magnetica basta appoggiarla e si attacca e guardate come si allarga il campo però fare un giro veloce anche così senza il mio bel faccione così da capire anche la differenza dei microfoni visto che la nuova ne ha 4 la vecchia ne ha solo uno tratto in salita sto tenendo le due cam con una mano l'altra tengo giustamente la bici ovviamente mi sto facendo aiutare dal motore ma guardate qua abbiamo un piccolo marciapiedino lo prendo con cattiveria e poi andrò a vedere come hanno stabilizzato le cama altro marciapiedino anche questo preso con cattiveria magari alzo un pochino la velocità ovviamente sono su terreno accidentato sterrato altro gradino adesso inquadro davanti altro gradinetto e poi sono proprio curioso di rivedere il video per capire la stabilizzazione perché sto saltando parecchio e ovviamente tutte e due hanno il triplo click per flippare la camera ma per provare come gira con poca luce le doti di stabilizzazione vi ho portato nel bosco urbano la mitica montagnetta di san siro e come vedete il terreno è veramente molto accidentato guardate come balla il manuale della bici stavo pure volando quindi ho mollato la grande ciao sto a radici 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 aiuto aiuto non ho una mountain bike come avrà stabilizzato questa cam sono praticamente nel buio più assoluto però vi faccio vedere una cosa come riprende lo schermo del telefono così facciamo un test eccolo qua guardate e si l'avete visto anche voi è migliorata la qualità è migliorato l'angolo è migliorata anche la stabilizzazione non è un action camera perché non è impermeabile non è resistente agli urti c'è comunque un box in cui inserirla per avere anche l'impermeabilità ma nel complesso le prestazioni sono aumentate veramente tanto 4k 60 frame per secondo il formato video massimo che può fare ma in queste settimane io ci ho girato un sacco di video a partire dal vlog che ho fatto alla diga ok non si paga non si paga cavolo mi sa che me li ha già ciucciati 5 euro vabbè andata così esatto sono per una buona causa comunque ufficiale qui c'è la neve si qua c'è la neve no vabbè per passare alla recensione del mini 2 e qua in questa recensione mi sono reso conto di come anche il fuoco si è migliorato tantissimo riesce a mettere a fuoco soggetti lontani riesce a mettere a fuoco anche soggetti molto vicini quando l'ho avvicinato al display del telefono o del controller ha sempre messo veramente molto bene a fuoco ma l'ho usato anche nell'unboxing del macbook air con il processore m1 e anche lì ho apprezzato tanto la fluidità del movimento la messa a fuoco la capacità comunque di fare delle belle immagini e poi ho apprezzato questo microfono nella recensione dell'aspirapolver perché l'aspirapolver ovviamente è un po' rumoroso se avessi usato solamente i microfoni integrati avrei preso tanto il rumore del robot in realtà usando questo microfonino wireless a distanza ho tagliato tanto quei rumori ma è tutto perfetto è tutto bello diciamo quasi secondo me ha due piccoli difetti il primo è che la batteria non è intercambiabile quindi quando l'ha finita dovete attaccarlo per ricaricarlo non è molto lento a ricaricarsi anzi in un'oretta carica al 100% ma già in 10-15 minuti di carica riuscite a fare mezz'ora di video video continuo circa un'ora e un quarto io sono riuscito praticamente ad arrivare a sera nel mio giro la diga quindi vlog quindi tante tante clip avevo fatto tipo un centinaio di clip da mediamente 20 secondi l'una e le rette e poi l'altra cosa che ho notato è che fa un po' non è che fa fatica tende quando c'è poca luce anzi guardiamo le riprese al buio la cosa interessante è che se anche avete un'altra applicazione aperta quando arriva un veicolo da dietro e adesso si ne sta arrivando uno il varia e tra l'altro vedete arrivano ad alta velocità emette dei suoni per avvertirvi allora diciamo che questo portafoglietto lo rende molto più maneggevole effettivamente per poi scrivere iphone 12 mini che mi portano via in questa giornata super interessante vi ho fatto vedere sia il buio completo dove si comporta bene sia quando c'è il crepuscolo c'è poca luce dove lui tende ad aumentare tanto 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 la luminosità introducendo però del rumore video nelle zone scure questo si può andare un pochino a attutire andando a settare in maniera manuale qua le impostazioni il menu è sostanzialmente lo stesso della precedente si può utilizzare il dito per spostarsi nel touch modalità pro modalità qualità da una a tre stellette cambia praticamente la compressione del video e nelle impostazioni possiamo scegliere la dimensione del display qua se 16 noni come il video che viene ripreso oppure quadrato uno a uno ma ha poco senso perché vi perdete le parti di inquadratura la possibilità di andare a fare timelapse e anche motion timelapse cioè iniziare il timelapse in una zona e finirla in un'altra tra l'altro molto buono anche il nuovo tracciamento del volto quindi voi lo potete mettere lì su un cavalletto visto che ha la vite inquadrarvi e muovervi lui vi riconoscerà vi seguirà e con il microfono non avrete nemmeno problemi di audio sono tutte funzioni un po accessorio un po di effetto wow ma vi posso assicurare che la funzionalità principale quella di tenerla in mano e fare video la svolge alla granderrima neanche grandissima mi è piaciuto veramente un sacco e vi stavo dicendo prima manualmente potete magari abbassare un po la luminosità le vi e quindi andare a tenerlo un po più scuro in quelle situazioni dove c'è un po di crepuscolo poca luce non volete troppo rumore video ma preferite una scena un po più un po più scuretta il punto lente un po il prezzo costa tanto 379 euro in versione standard non c'è il microfono nella versione standard non c'è il supportino di questo ne potete fare a meno però c'è già nella versione standard il joystick che è veramente molto molto comodo tra l'altro in questa versione combo c'è anche il cavo a y per caricare contemporaneamente se volete il microfono esterno e la batteria integrata mi stavo dimenticando cosa non c'è nella versione non combo è non c'è la grande angolarina magnetica che in realtà ha un grande senso e tra l'altro genialata di DJI perché nella custodia c'è proprio una parte apposta vedete là in fondo magnetica dove si può mettere il l'obiettivino e poi si può mettere anche la cam che mannaggia a me riesco sempre a mettere al contrario no è così ok vedete sta dentro in maniera tranquilla tra l'altro hanno tolto questa pateletta in silicone che oggettivamente era inutile perché vedete così già sta molto bene dentro versione combo 519 euro che io vi consiglio per tutti gli accessori che vi danno in dotazione e qui lo dico qui lo confermo ebbene sì cara Sony mi spiace la tua vlog camera è fantastica bellissima fai video ovviamente anche migliori a un sensore da un pollice questo ce la da uno su 1.7 se non sbaglio ma la comodità di potersi portare dietro tutta una serie di come si può dire camere sì perché alla fine abbiamo una grande angolare abbiamo lo zoom che possiamo fare in maniera ottica abbiamo un ottimo audio abbiamo il microfono a distanza in una dimensione così compatta fa sì che lei sia diventata la mia vlog camera sì ragazzi me ne sono innamorato un saluto da andrea galeazzi.com e chi vi dice che ma che cosa serve che ormai con i cellulari si fanno dei video bestiali sì è vero ma solo con iphone s20 ultra p 40 pro cioè con cellulari da oltre 1000 euro ciao 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 ciao